Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. L'attrice Ande Ercel ha cambiato il suo stile per un servizio fotografico di marca. Ande Ercel, che era davanti alla telecamera con la sua nuova forma, ha scioccato chi l'ha vista. È stato inondato di commenti da parte di molti utenti. L'attrice Ande Ercel, protagonista della vita privata e della carriera, è uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi tempi. L'attrice di successo, che di recente è andata in turne mondiale e ha pubblicato sul suo account social le foto che ha scattato. Ha attirato l'attenzione con il suo cambio di stile. I suoi fan stanno inondando di ammirazione ogni aspetto della bellissima attrice. Ande Ercel, spesso condivisa con la sua bellezza, è diventata il volto di un marchio. Sono state condivise le immagini della campagna pubblicitaria. Ercel, che è all'ordine del giorno con il suo nuovo stile e le sue fotografie, è piaciuto a molti utenti. Ercel, che è stata paragonata a Cleopatra con la sua acconciatura e il trucco, è stata inondata di ammirazione. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Andiamoci. Andiamoci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.